Quando ci sono 20 gradi, vestito con un cappotto di cammello, per ringare 10... Adesso gli dà fastidio il cappotto di cammello, che ci posso fare? Che ci posso fare? Ma chi è Pino? Chi è Pino? Lascialo stare! Adesso gli va assorto il cappotto di cammello, ma che ci posso fare? Ma perché gli ha detto che l'ha zittito così? Perché l'ha zittito così? Stai zitto Pino? Perché non è il caso di...